gentili telespettatori buona giornata ormai risulta sempre più evidente la strategia del governo sugli sbarchi sta letteralmente aspettando che si presenti il primo magistrato che sequestri le navi che sono in banchina che non vogliono ripartire con il sequestro scendono tutti la nave rimane sequestrata per un certo tempo poi troveranno delle delle cose che non vanno bene mancano i salvagenti manca questo manca quello la nave rimarrà sequestrata per un mese un mese e mezzo due mesi poi verrà restituita però intanto la nave viene bloccata per diverse settimane poi tornerà a prendere a portare delle persone in italia verrà sequestrata una seconda volta intanto ci sarà il processo per il capitano che verrà denunciato per non essere ripartito questa dovrebbe essere la strategia del governo credete realmente che piantedosi non sapesse che far arrivare le navi in porto poi non sarebbero più ripartite che avrebbero fatto la denuncia al altar al tribunale di catania lo sapeva benissimo sapeva perfettamente come successo con salvini che se anche la nave è fuori dalle acque internazionali l'italia arriva lo stesso con i giudici anche lì perché se sei fuori e stai aspettando è come se fossi dentro non so se vi ricordate ai tempi tutta la teoria pertanto sembrerebbe questa è la mia interpretazione che il governo stia aspettando proprio i giudici che a bordo constateranno che la situazione è diventata insostenibile perché queste persone sono a bordo da 15-20 giorni sequestro della nave e la conseguenza del sequestro della nave viene poi lo sbarco di tutti questo è quanto è il piano del governo perché piantedosi che era al viminale a fianco di salvini nel 2019 sa perfettamente quali sono le cose da evitare e come muoversi per non finire indagato proprio come è stato poi indagato salvini che ancora i processi in corso pertanto questa è la strategia del governo molti diranno è cavolo ha fatto scendere tutti alla fine avete visto che sono scesi tutti dov'è la forza del governo e ma la forza del governo è proprio nell'aver trovato una sorta di parziale soluzione che è quella di far sequestrare la nave e fare scendere tutti dal magistrato ma i magistrati fino a questo momento non si sono visti con salvini celermente erano vi ricordate come si chiamava quel magistrato patronaggio di agrigento era subito salito sulla nave aveva visto aveva valutato che dovevano scendere tutti sequestra la nave scendono tutti e poi la nave era rimasta lì per parecchio tempo cos'era successo che ai tempi di salvini al viminale questo fatto del magistrato che sequestra la nave le navi alla fine erano state tipo 5 o 6 ong erano tutte sequestrate e poi sono state ridate ovviamente perché il sequestro non è la confisca la confisca è una cosa definitiva mentre con la confisca lo stato diventa proprietario di quella nave e ne fa poi quello che vuole la regala la guardia costiera la fa diventare un schereccio la vende fare quello che vuole perché diventa proprietario il sequestro è temporaneo e poi viene ridata la nave però passa del tempo c'è stato un momento per diverse per diverse settimane che non c'erano più ong perché erano tutte sequestrate in italia e poi c'è anche il problema della spagna che ha fatto sapere che ha ordinato alle ong spagnole di non partire più verso l'italia perché se le navi vengono sequestrate dall'italia e vengono poi e viene poi trovato che la sicurezza a bordo non va bene che manca questo che manca quello dice poi la spagna nel ranking della sicurezza internazionale perde lo status di bandiera bianca non mi ricordo esattamente qual è però perde lo status di paese con imbarcazioni a norma scende di livello gli fa un danno enorme per appunto questo settore quindi le ong che stavano per partire per il mediterraneo centrale non partono più proprio perché la spagna gli ha detto non partite è stato praticamente un ordine è fatto praticamente un ordine non non partite non partite più e realmente questa è la la faccenda e questo è già un mezzo successo anche se poi l'interpretazione di questi successi i mezzi successi vengono poi girati a seconda della della parte politica quando poi scenderanno tutti la sinistra e i detrattori del centro destra diranno avete visto che alla fine sbarcano tutti non serve a niente fare tutte queste buffonate dall'altra parte invece diranno avete visto che funziona perché le navi sono bloccate dalla spagna non partono più ma poi come al solito ci sarà una interpretazione diversa di questi di questi fatti pertanto vedremo quello che succederà vedremo se la mia interpretazione su quello che sta succedendo è reale o no però i giudici forse hanno capito quello che sta facendo il centro destra e non si so per il per il momento non si è presentato nessun giudice per sequestrare le navi sarà che c'è un cambio di passo c'è un cambio di visione in tutta la magistratura o quella parte della magistratura politicizzata non non può non vuole intervenire perché non ha non ha diciamo le 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 cause le conseguenze non sa esattamente ha paura magari di fare una figuraccia ecco sta di fatto che a oggi 8 novembre pomeriggio ancora non si è visto nessun giudice salire sulle navi però vi racconterò poi nel prossimo video che ci ci sono delle ispezioni grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete e poi c'è anche il canale in cucina con carla carla con la k se no non lo trovate che è il canale di mia moglie dategli un'occhiata così fate la fate anche contenta grazie a tutti arrivederci a presto